Buona domenica, buon viaggio, ben trovati da Muoversi in Toscana in studio Mauro Ciutini. Pioggia che contraddistingue i rientri di questa domenica su strade e autostrade in Toscana. Si raccomanda la massima prudenza al guida. Rallentamenti segnalati in A1 tra Valdichiana e Chiusi-Chianciano. C'è uno scambio di carreggiata sempre presente sul raccordo Siena-Firenze tra lo svincolo di Firenze in Pruneta e San Casciano Nord direzione Siena. Per quanto riguarda gli aerei, il volo Blue Air da Firenze a Bucharest delle 20.10 parte alle 21.15. Treni per il danneggiamento di un passaggio a livello. La circolazione sulla Pisa-Lucca è rallentata con un ritardo quantificato in circa 30 minuti. In chiusura ai lavori per la tramvia a Firenze, il 10 maggio sarà chiusa via a Corridoni per il getto conclusivo sulla sede tramviaria. È tutto per il momento, oversi in Toscana in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. A più tardi. Grazie a tutti.